Iniziamo con una buona notizia, si fa per dire, il canone televisivo da 107,50 a 109 euro. Penso che, siate d'accordo con me, sentivamo tutti la necessità di un aumento, di un ritocco, perché così 109 più l'euro e 10 da pagare per il bollettino postale, 110 euro e 10 centesimi suonano meglio di 108,60 con il diritto per le poste. Come si diceva l'altra volta, no comment, perché anche questi piccoli ritocchi non solo sembrano del tutto inutili e ingiustificati, ma a fronte del servizio che tutti possiamo notare sono un'enormità. Ma, d'altra parte, lo sapete, si tratta di una tassa dovuta per il possesso dell'apparecchio televisivo e quindi dobbiamo pagare, sia che vediamo solo Intellatv, sia che vediamo tutti i canali di questo mondo, il possesso dell'apparecchio televisivo comporta l'obbligo del panagamento del canone.